Ciao e benvenuto in questo nuovo video. Oggi in questo video parliamo di Villan per il MikroTik perché ho letto un po' su Telegram, un po' su Facebook e su altri social che alcune persone non hanno difficoltà a capire questa cosa delle Villan. Allora, intanto io ho impostato il mio switch qui con la porta E00 in trunk. Showrun qui, porta E00 è una porta in trunk che lascia passare tutte le Villan. Poi chiaramente tu puoi anche specificare quale Villan può passare e ovviamente quelle che non sono state dichiarate non passeranno. Questo lo si trova per esempio negli switch Aruba. Nello switch Aruba devi dichiarare tutte le Villan che devono passare. E questo è uno switch Cisco che ovviamente io, come ripeto, ho dato il permesso a tutte le Villan perché in questo caso non mi interessa filtrarle. Poi l'interfaccia 02 dove è collegato questo computer io l'ho chiamata Villan20 e fin qui tutto va bene. Va così tanto bene che io non riesco a pingare la mia interfaccia qui sul MicroTik. Vediamo un attimo dalla prospettiva della configurazione. Aruba, il mio MicroTik, ho le mie interfacce, una che è l'internet, due che appunto è quella che è collegata al mio switch, la tre è collegata ad un'altra rete. Questa la possiamo togliere perché non esiste più. Allora, come si fa? Prima cosa si va su Villan, semplice, e gli diciamo aggiungi. E qui gli diciamo Villan20, poi se vuoi dargli anche un nome più fantasioso tipo PC Windows o Departimento Marketing eccetera eccetera. Questo è il VillanID. Allora, tag e untag. Qui anch'io tanti anni fa andavo in confusione, proprio perché chi proviene dal mondo Cisco le conosce come Access e Trunk. Allora, untag vuol dire che non c'è una Villan. Di default che è solitamente la 1, infatti anche qui sul MicroTik vedi che è 1. Può essere anche 0, dipende dal vendor, ma la sostanza non cambia, è sempre la Villan1. Uno perché? Perché tutti gli switch, tutti gli apparati di rete di tutto il mondo devono potersi collegare tra loro. Quindi se io compro uno switch Cisco, uno switch MicroTik, uno switch Aruba, io li collego tutti insieme con un filo e questi funzionano. E qui finisce la storia. Sono tutti nella Villan1 o anche conosciuta come Villan nativa. Mentre tag, Cisco è conosciuto come Trunk. In tutti gli altri vendor come appunto tag. tag, poi gli diamo il numero della Villan20 sotto l'interfaccia 2 perché è questa. Poi premiamo Applica, ok, e andiamo qui su Interfacce e vediamo come si mostra. E si mostra esattamente in questo modo qui. Vedi, sotto l'interfaccia 2 ho una sottointerfaccia VillanPC Windows che fa riferimento in questo caso appunto al level LAN20. Ora non è finita qui la configurazione, ci sono altri due passaggi da fare molto semplici. Poi andiamo su IP Addresses. Qui andiamo su LAN e selezioniamo appunto 20 PC. Applica. Ok. Chiudo. Chiudo. Poi vado su IP. Vado su DHCP Server. Perché questo router abbiamo anche un DHCP Server. E vado anche qui a selezionare l'interfaccia Villan20 PC Windows. Ok. Chiudi. Ora se tutto va bene il PC Windows inizia a pingare Google. E ovviamente se io gli dico di rinnovare l'IP, LIS e RENEW, lui mi darà anche il nuovo IP che sarà poi sempre lo stesso in realtà che è questo perché ovviamente c'è un computer solo. Ora facciamo un altro esempio. Io, tanto per essere più, per farlo dall'inizio, insomma, per essere chiari. Allora, io qui ho la porta E03. Quindi ConfT Interface E0 slash 3. Switch Port Access Villan. E la chiamiamo 30. Port Switch Villan 30. Poi se ti pare gli devo pure anche un nome. Ma questo è un'altra cosa. Perfetto. Chiudo questo e vado di qua. Riapro il MicroTik. Sempre stessa cosa. Molto semplice. Villan. Aggiungi. Questa la chiameremo Villan 30. Test. La chiamiamo test. Poi Interface. Sempre l'interfaccia 2 perché questa è l'interfaccia proprio fisica. E Villan ID 30. Applica. Quindi vedi abbiamo due Villan. Abbiamo due Villan sotto la stessa interfaccia. Poi non è finita qui ovviamente. Vado su IP. Addresses. Crea un nuovo indirizzo. Per esempio. 192. 168. 60. 0. Slash 24. Scusatemi. 1.24. Poi. Qui. Gli dico che è sotto la Villan 30. Applica. Ok. Quindi sull'interfaccia del nuovo computer e del nuovo Villan è l'IP è 60. Poi dopo magari ho la necessità appunto di configurarci anche sopra un DHCP. Quindi GP server. DHCP setup. Seleziono Villan 30. Avanti. Qui lui ovviamente già sa che è 60. Qui lascio tutto di default. E vado avanti. Ok. Ok. Ed è configurato. Ora andiamo a vedere il risultato. Apro il PC. Eccolo qui. IP. DHCP. E vediamo se mi da. Infatti vedi Dora. Mi da l'IP immediatamente. Che è 192. 168. 60. 254. In questo modo che cosa abbiamo ottenuto? Abbiamo ottenuto due Villan. Le abbiamo configurate a Layer 3. Allora anche qui. Tanto per rinfrescarsi le basi di networking. Le Villan sullo switch. In questo caso perché è uno switch Layer 2. Sono Villan appunto di livello 2. Quindi di Layer 2. Mentre in questo caso di qua. Sul router. Che è di Layer 3. Vabbè il router fa Layer 2 e Layer 3. Comunque in questo caso. Sono Villan Layer 3. Perché sono Layer 3? Perché io ho creato la Villan sotto allo switch. E la stessa Villan ha un indirizzo IP. Cosa che alle Villan di Layer 2 non gli si può dare un IP. Proprio perché non è possibile farlo. Quindi. Con questo semplicissimo modo. Tu puoi configurare le Villan. che l'inchiostro.